Ciao, sono Ricobono Stefano, allenatore in mischia di Svieno Varagli, femminile. Allora, stiamo con le pressioni, dai, vai! Allora, stiamo con le pressioni, dai, vai! Allora, stiamo con le pressioni, dai, vai! Allora, stai qui! Allora, stai qui! Ufff Porra camisera Ufff Sì 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 Ufff 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 Ok Ci siamo Toglio il bastone Se lo scivola Se lo parla Il bastone scivola Ufff Ok bro Butta giù la base vai Dai L'anitro fischia Iniziamo la mischia Mediano contento Salta a dieci Passa al centro Un pass profondo Manta vuoto secondo E crocia con l'estremo E il buco creeremo Yo 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 Lancio in touch Chiamiamo una peluche Schiera mito ridotto Il 3-4 Alzano l'8 Che finge il passaggio E la porta giù Impostiamo la mod E non ci fermiamo più Yo Woo